Il derby di ritorno è capitato nella prima domenica di marzo. Arbitrerà il Fiorentino Ciulli. Condizioni di terreno ideali per una partita di alto livello. La temperatura mite ha agevolato il grande esodo del popolo bianco-verte verso lo stadio San Paolo. Non meno di 6.000 tifosi. In tribuna posillipo anche l'onorevole Ciriaco De Mita, ospite del suo amico Corrado Ferlaini. Assente nell'avellino il piccolo tamburino sardo Piga, pressoché al completo il Napoli. Le squadre di Rino Marchesi sono abituate a correre 90 minuti e di fatti gli Irpini portano subito su livelli alti il ritmo del match. Ma il Napoli oggi sembra avere una marcia in più. I pericoli per il bravissimo portiere Piotti arrivano presto. Va detto però che anche Giaguaro Castellini fa del suo meglio volando da un palo all'altro. Gli Irpini anzi reclamano con massa che ha il 7 e con tacchi un fallo da rigore in piena aria. Ne ricavano soltanto una punizione dal limite. La prima marcatura della giornata è del quattordicesimo e reca la firma di Savoldi. Gran gol ed esultanza sotto la curva A. Gli avellinesi cercano di replicare con uguale forza, ma non ci riescono nonostante le galoppate sulla fascia di De Ponti. Non mollano mai, però al diciottesimo un gran sinistro angolato e potente di Pellegrino Valente, mette dentro il pallone del 2 a 0. A 14 minuti dalla fine, con un Avellino che non si è mai arreso e ha dato davvero tutto, arriva la terza segnatura. Ancora Savoldi, che firma così una bella doppietta, mentre Piotti si dispera per l'eccessiva libertà concessa in questa giornata all'attaccante del Napoli.